ciao ragazzi come state benvenuto questo nuovo video oggi io trovo ai barche pescatori voglio vedere le barche cosa c'è l'interno l'interno qui si orveggia sempre staffino o guardate di là cos'è è come un'antenna ecco lo vedo lo vedo io si è là lo vedo come un'antenna qui domenica ho visto che c'era staffino e mi ha detto che lunedì domenica mezzanotte è partito sono partiti vedi che non ci sono più io vedo i pesci non c'è niente non c'è staffino è partito vedete che dal lunedì iniziano a partire qui è mare se fuori dalla città è certo che insieme a mar mediterraneo o martireno o c'è uno pacifico o c'è uno atlantico questo nonno giovanni lo vedete questa scrittura non si accende il marine traffic salmone, vigliardo, santo padre, staffino si accendono il marine traffic questo no lo vedete questa scrittura porto torres quindi questa ruota ha fatto porto torres al ghero si che bella questa barca no, i è bella lo stesso ma non c'è spazio per salire puoi fare male qui sei alla fine del molo guardate che si vede tutto al ghero che è una bella fista e qui c'è il nonno Giovanni il signor sta contrando la barca qui si pescano domenica ho visto qua qui uno sta pescando qui sta uno pescando i pesci qui sta uno pescando che lavora di là sta fino è bella questo nonno Giovanni serve già anche il centro storico al porto qui sono mi trovo sempre al porto ai barchi pescatori consorzio porto di al ghero barchi pescatori ecco qua consorzio porto di al ghero barchi pescatori ecco avete visto questa bellissima barca oh ho visto qualcosa nella scia barca c'è il radar c'è il radar questo si accede quando è al mare questo vedete questi due qua uno pesca di là uno e due pesca là quindi pesca 5 giorni oggi no perché ha piovuto ieri è rientrato sta fino in grande può pescare anche quando c'è pioggia oh lo vedete io vedo il santo padre di là è aperto qua si è bello questa barca mi ricordo che di là è il radar di là si accende quando è si accende quando è a parte è bella allora dove stiamo dicendo questa è barca piccola allora pesca vicino vicino qui hai barca pescata è dal ghero e questo è un altro di pesca è sempre barca pescatori vedete che è tutta rucinita è vecchissima non hanno pitturato raga questo è il santo padre nuovissima guardate che è tutto pitturato nuova anche nona rosa è pitturata nuova la domenica 20 dicembre è tornata dal ghero è bella è bella questo santo padre vi ricordo che un radar è diverso diverso sempre che abbiamo detto un'altra barca nonno Giovanni abbiamo detto quell'altra è bella vi ricordo quando si accende quel radar quando la barca è al mare mare lo vedete sul santo padre si vede ai bastioni guardate è bello lo vedete quel portone la scopriamolo da qui wow questo è è chiuso è santo santo padre è grandissimo santo padre è come un monia è bellissima adesso vi ricordo quando quando questa barca va al mare accende accende questo radar ecco il biliardo bellissima questa barca fate tante foto su youtube questa nuova questa è la barca perché io registro su youtube dopo scopriamo anche questa prima vi ricordo che questa radar accende quando è al mare lo vedete e sta anche acceso guardate sono io che sto muovendo il video dal telefono vi ricordo anche questo si accende quando è al mare tutti i barchi pescatori si accende radar quando è al mare qui c'è un portone la porta oh questo rumore il moto che sta andando via questa è la porta per dare arrivo alla partenza e quando io vado di là a fare il video è bello è bello questa barca qui c'è un radar vi ricordo questo radar si accende con la barca al mare mare oh si vede anche il santo padre il biliardo di là le versioni ci sono anche qua due uno qua e un là questo fa parte una pesca la pesca è un giorno e anche e poi rientro subito oggi sta tutto giorno e da noi ad Alghero qui esce il fumo a chi là esce il fumo quando mettono il moto vi ricordo questo è un radar mi piace quando gira è un diverso non è furuno furuno è moia e nona rosa è santo padre è stafino non vegliardo ecco qua questa è la barca è moia moia è bellissima cosa fa pesca a oristano perché io vedo sempre marine traffic moia c'è scritto moia 1 pt 1941 hanno costruito a porto torres moia che bello ci sono due radar che belli d'altra parte c'è scritto furuno non si vede mi ricordo anche qua abbiamo detto tante altre barche che si accende quando è al mare moia si mi ricordo anche qua questa questi qua stanno pescando è bello c'è scritto simbrad di là ci sono due come abbiamo detto il bigliardo di là due si accende le luci quando è la notte e ecco quando sei al mare sei al mare lo vedete questo si accattura i pesci subito si accattura perché questo è una barche grande lo vedete si quasi sono finestrini che puoi vedere guardare quando sei al mare anche da qui si vede santo padre nuovo bigliardo bigliardo moia si vede ai bastioni di là uno due tre quattro quattro finestrini sono lo vedete lo vedete oh guardate questo qua come tipo come trecchetti voglio dirsi come tranchetti come stafino perché moia è grande è pesca lontano ti hai visto quanto pesca dietro capocaccio c'è un ristano lo vedete qui ho iniziato il video io quando ero barca qua ecco qua bella barca c'è lontano guardate cosa mi succede mi succede guarda e mi allontano di nuovo mi ha preso barca monia non c'è più ecco qua è ritornata foto 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 i craft riest per favore perché bellissima monia e bigliardo e radar 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 bigliardo radar monia e radar nonna rosa e radar nonno giovanni e radar santo padre con la barca vediamo dopo monia questo rumore è questa la corda è bella monia così si tiene quando 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 la barca è in movimento c'è una bandiera italiana di là lo vedete c'è una bandiera monia guardate questa corda non ho mai visto e non c'è nonna rosa ci sono le tende dentro al capitano di monia si c'è una tv per perché per vedere radar ovviamente 1pt 1941 questo è vecchio non nuovo bene monia abbiamo guardato vi ricordo che anche monia esce e fumo così fa così se volete vedere di là è meglio oh qualcosa c'è di là hanno dimenticato chiudere di là è aperto lo vedete c'è all'interno lì lì dentro lo vedete anche nonna rosa ce l'ha adesso andiamo a vedere nonna rosa e c'è un'altra bar che si chiama gigino è bella nonna rosa qui all'interno qui abbiamo detto che per subito catturare i pesci e qui c'è toilet e qui al capitano c'è scritto nonna rosa nonna rosa 1855T e qui hanno foto di là su lo vedete vicino il radar di qui si accende le luci quando si è al mare pescando la notte qui esce l'acqua e qui esce il fumo pure abbiamo detto che è il radar si accende quando si accende quando è al mare la barca ma barca questa è nuovissima hanno pitturato lo vedete hanno pitturato nonna rosa fate fotografie di nonna rosa perché se non siete in Italia se non siete in Sardegna fate la foto guardate guardate qua ecco piccola radar questo abbiamo detto che possiamo vedere dopo furuno c'è scritto là furuno anche questa barca sei piccola c'è scritto furuno qua qui non potete passare perché potete rischiare qua dentro qui al mare non passate cosa faccio io c'è una sedia dentro la barca si questa fa un'altra di pesca non fa un'altra come Mona Rosa e altre barca pescatori lo sappiamo che non ha rosa radar che si accende qui nel mare al mare lo vedete questo radar lo vedete è bella è bella questa barca adesso facciamo gingino e poi andiamo a vedere al faro che bella vista vista mi è piaciuto Dona Rosa è un bel pitturata non ha fatto pitturata adesso guardiamo nonno Giovanni no vuol dire gigino guardiamo si può fare così come vostra quando siete in Sardegna di Alghero se se ricordate che Alghero 07041 provincia di Sassari qui esce il rumore molto forte il rumore qui è il radar quando sei al mare e qui sei il capitano è piccolino non ci tende non ci sono le tende qui sei piccolino e non potete stare qua anche qui anche questa cosa ha visto il portatore oh questo rumore è una macchina abbiamo detto nonno nonno cigno gigino nonna rosa monia vigliardo santo padre nonno Giovanni 3 1 2 3 4 5 barche pescatoria abbiamo detto 2 finestre qua 1 2 3 4 5 5 finestre su vigliardo adesso andiamo a vedere il panoramica dal faro all'osso oggi fa soli ci tranno tanto perché io sono un barche pescatori pescatori sì guardate questa strana che salgo qua su c'è il sol che sta tramontando c'è il sol che sta tramontando lo vedete il sol che sta tramontando vediamo che scopriamo cosa c'è su wow si vede anche sopra barca pescatori qui mondezza di barca pescatori che abbiamo detto qui sono pescando sono suonendo le campane solo una eccoci qua ecco il faro guardate guardate tutta panoramica si vede il faro verde di là capocaccia monte timidone monte palmavera monte d'olio hotel punto negra fertilia monte forte comune di sassari la stagia di maria pia la palafita barca la pizzeria la palafita e monte alvaro aspetta lo vedete la monte alvaro dovete cercare il sito dovete andare di là vedete tutta la panoramica si vede anche l'alghero si vede anche a sassari lo vedete ospedale marino eccola qui c'è il mare qui c'è algaro lo vedete quello lì questa lampadaria lo vedete lampadaria di là e lì la strada di portatore per le macchine io lo vedo il gru cioè poi vedo altro monte agnese lo vedo la strada si vede anche i via cariballi si vedo la strada tutto le barche di cuore la fidanza lo vedete oh c'è un cendio di là lo vedete c'è un cendio c'è una rosa e c'è un camion monte son giuliano hotel hotel catalunya porto via cariballi scala piccata la sesta la mia scuola la casa della palazzo c'è una casa vicino l'antenna c'è un pochettino il vento questo segnale è privato qualsiasi segnale vuol dire che che parcheggio sono là si può parcheggiare che non si può entrare le moto che possono rischiare di dare macchina altrimenti se parcheggiano dopo santo padre lo vedo tutto puntaina tunda lo vedo già lo vedo traghetti di grotte di natuno le barche a vele e i bastioni tutto tutto vedete che il sole sta tramontando ecco qua qui ci sono barchi pescatori monia monia nuovo vigliardo vigliardo santo padre nonno giovani e al nostro nome e nonna rosa lo vedete vedete questa magnifica panoramica dal faro lo vedete si vede tutto al ghero oggi oggi vi ho portato ai barchi pescatori per farvi vedere avete visto abbiamo detto va bene sono passati abbiamo fatto video troppo ah con le montagne quella zona è comune di Olmedo con le montagne si lo vedo già va bene e iniziamo a concludersi prima di concludersi c'è la palafita con la zona si lo vedete va bene adesso è vero c'è isolotto della maddalena maddalena lo vedo da già che c'è si vede anche la tirrenia che c'è Janas su marine traffic marine traffic c'è anche la tirrenia lo vedete e finisce qua e noi intanto ci vediamo alla prossima ci vediamo al prossimo video ciao e ti saluto anche le barche ciao barche e noi ne ho detto buono al vigliardo donna rosa ne ho detto al prossimo video ciao